Dove secondo me Carolina è tra le migliori al mondo, non è salito come al solito. Ha detto io non sono andato ai campionati europei, quindi non l'ho vista nello specifico quando è diventata campionessa europea, però qui mi è sembrata davvero che lei abbia dato la miglior performance, quindi è d'accordo con te, è sorpreso anche lui dai components che sicuramente non l'hanno premiata. Laura Lepisto con Adios Nonino e Fuga e Misterio, Laura Lepisto che dovrebbe ottenere 133.28 per battere Mao Asada, 126.50 per raggiungere la seconda posizione. Triplo tolup, triplo tolup, vola sul ghiaccio Laura Lepisto, molto molto lungo, veloce. Triplo tolup, molto bene. Doppio tolup, doppio tolup. Triplo tolup, triplo tolup, triplo tolup. Di nuovo doppio tolup, non è entrato il triplo tolup oggi? Un triplo tolup che ha un valore base di 5, nettamente inferiore il doppio, 1.5, quindi sono tre punti e mezzo che si perdono per strada. Doppio tolup. E' solo doppio anche il salkoff, con i due doppi tolup attaccati. Doppio salkoff ha un valore di 1.3. A questo punto ha mancato i tre salti. E' 1.3 contro il 4.5, sono altri tre punti persi. E con i due doppi loop al posto del triplo loop. Un punto in mezzo in meno, un doppio loop rispetto a una triplo. Diverse pattinatrici hanno espresso poi dei problemi sul salto, appena possibile, magari poco prima della cerimonia. E anche l'ultimo salto che ci manca di essere svelato, nelle spiegazioni tecniche, magari lo proponiamo, può essere un elemento interessante. Parte finale, conclusiva del programma di Laura Lepisto, che però dovrebbe scivolare dietro Carolina Kostner, perché è un troppi salti mancati. Sì, aveva iniziato benissimo, con quella combinazione triplo-triplo, molto lunga, molto fluida, scorrevole, e un bel triplo loop, che è un salto che lei ha acquisito da poco. E poi invece si è andata a perdere sui salti più facili. Andiamo a sentire Mau Asada, che comanda la classifica con 197,58. Andrea Caglieris.